Io ho sentito le vostre deposizioni in quest'ora. Cosa fai, mi spino? Ti prego, lasciati in pace. Io lo sento che c'è qualcosa che non va. Ho in tutto. Devi finirla con questa ossessione. Qualcosa di strana. Io lo sento che mio figlio non è morto in quella tempesta. E va a te, non chiedi. Lo capisci o no che siamo tutti fottuti? Se ho passato con l'inferno sulla dianna è solo per colpa tua. Lo capisco, sai, il vuoto che senti. Ed è difficile. Non puoi pensare che tutto torni subito come prima. Io voglio dimenticare, basta. Io così non ce la faccio. Dovevo voglia di dirvi tutto. Disturbo? In prima visione. Che significano questi? Non sono soltanto disegni, no. Quella roba lì ce la dobbiamo dimenticare. Sopravvissuti. Questa sera alla 21.25. Rai 1.